530.000 terze dosi con oltre il 70% di somministrazioni dove emerge che il 95% di ultra ottantenni è stato vaccinato. Per la fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni sono state somministrate 13.000 prime dosi su 23.000 iscritti in piattaforma mentre per la fascia d'età tra i 12 e i 18 anni risulta vaccinato il 70% degli iscritti e questo è il quadro generale della copertura vaccinale anti-covid nella provincia di Salerno nella settimana in cui si dà un'ulteriore spinta alla campagna vaccinale con l'apertura per questo weekend di diversi istituti superiori. Dopo il liceo severi di Salerno nuove tappe direttamente nelle scuole per gli adolescenti della fascia d'età tra i 12 e i 18 anni cui saranno destinati i nuovi vaccini Pfizer già priempiti in siringa da iniettare. Ad annunciarlo ai nostri microfoni il dirigente dell'asola di Salerno per il settore covid il dottor Arcangelo Sagesetozzi che nel corso di un'intervista esprime fiducia per la buona copertura vaccinale che dovrebbe contribuire nei prossimi giorni ad abbassare i numeri dei contagi fermo restando il rispetto delle regole per contribuire a rallentare la circolazione. Sì noi per recuperare ma più che per recuperare per garantire una buona funzionalità del modello educativo del modello scolastico stiamo avviando anche con il supporto e con la spinta delle richieste che ci viene dalle scuole stesse un'azione diretta nelle scuole. Questo fine settimana in molte scuole di Salerno superiori faremo attività mirate per vaccinare ragazzi dai 12 ai 18 anni in modo tale che recuperiamo abbiamo già raggiunto il 33 per cento di questa classe d'età vaccinata che però rispetto ai più adulti ancora un po' più indietro abbiamo bisogno di fare un rinforzo. Questo rinforzo lo faremo anche recandoci direttamente presso le scuole. Ci aiuterà in questo senso anche l'arrivo di una nuova formulazione di vaccino Pfizer che dedicheremo appositamente a questa classe che è un vaccino già pre-infialato per cui non avremo il problema della diluizione. Questo ci faciliterà il lavoro e ci accelererà la possibilità di intervenire in questo modo.